Qui abbiamo la serie Michi and the other, dove viene rappresentata la figura femminile in diverse espressioni, tramite diversi tipi di abbigliamento, particolarmente tradizionale oppure più occidentale, con quindi anche un'apparenza esterna decisamente diversa, e la serie ultima da lei prodotta nel 2013, che è Iran Untitled, dove si parla dell'immanenza del destino e della tragedia della guerra tra Iran e Iraq, con foto scattate proprio sul confine tra questi due paesi, dove si ebbero miliardi, milioni anzi, di vite umane, di giovani vite umane spezzate. La serie Volcano, la serie che risale al 2012, è una serie molto colorata, apparentemente molto allegra anche, ma sempre con la presenza nell'ambito di queste scene di allegria, di cordialità, di serenità, la presenza di questa coda come di un mostro preistorico in un angolo dell'opera d'arte, a ricordarci l'immanenza e a ricordarci la presenza costante che è presente decisamente nella mentalità di questo popolo, nella loro forma mentis, del pericolo di qualcosa che potrà avvenire a breve, quindi di una tragedia che potrebbe essere una guerra, una sommossa o comunque le tensioni politiche, sociali e religiose che da tempo affliggono questo paese. Si tratta di un argomento estremamente coraggioso, ovviamente, perché è espresso da una donna iraniana ed espresso nel suo paese.